Salve ragazzi, eccoci qua, benvenuti a tutti, Marco Casario qui e finalmente rifacciamo un video di analisi tecnica dove andiamo a vedere un po' di price action, era un po' di giorni che non lo facevo, scusatemi, ma semplicemente questo periodo sono stato parecchio in viaggio, sono dovuto passare da Roma, Milano, poi Amsterdam, poi di nuovo Vienna e adesso finalmente Amsterdam, sono finalmente seduto a casa e posso riprendere in mano i grafici per guardare che cosa sta succedendo, o meglio che cosa sta succedendo lo sappiamo, lo so benissimo perché comunque giorno dopo giorno seguiamo il mercato, questo periodo l'ho seguito di più dal punto di vista fondamentale di notizie, vi ho fatto degli update c'è stata la consensus, però ogni tanto è utile andare a vedere che cosa succede sul mercato ed ecco qui, partiamo da, anzi, partiamo da un recap veloce, ovvero, allora vedete qua, concentriamoci sempre su queste due colonne 24 ore e 7 ore, la variazione del prezzo, vedete che nelle ultime 24 ore praticamente il mercato è fermo Bitcoin si fa un più 1%, sta sugli 8200, Ethereum che è ritornato sotto i 700 dollari, sta a 689, a 1,29 Ripple fermo, Bitcoin Cash perde il 3,5%, IOS fermo, fermo ma comunque sotto i 12 dollari Litecoin fa un più 1%, 134 dollari, fermo anche Cardano, Immobile Stellar, ma nell'ultima settimana vedete, a parte Ethereum che ha registrato un più 3%, Bitcoin ha perso ancora un meno 3%, Ripple ha perso l'1,76%, il 15% l'ha perso Bitcoin Cash, il 9%, quasi il 10% l'ha perso IOS, Litecoin il 2%, l'8,5% Cardano, il 5,80% Stellar andiamo a vedere anche le midcap, midcap, eccole qui, andiamo a vedere direttamente la settimana c'è Monero che fa un più 4%, Dash che fa un più 2%, ma comunque nell'ultima settimana è solo Tron che riesce a rimanere positivo facendo un più 3,48%, 3,5%, perché IOTA scende del 6,5%, NIO del 7,74%, fermo Monero, fermo Dash, NEM perde il 4%, eccetera vabbè, Tether, ovviamente, VeChain perde il 4,25%, riscendendo sotto, abbondantemente sotto i 4,5$ insomma ragazzi, il mercato è un mercato, secondo me, vi dico, la parola magica per descrivere il mercato delle criptovalute in questo momento è una ed una sola, attesa, indecisione, è una e una sola, ma ne ho detto due ragazzi allora direi che probabilmente indecisione è la parola chiave, indecisione dovuta a che cosa? eh, ragazzi, indecisione dovuta a tanti aspetti del mercato, vi dico, questo rally qui che c'è stato a ottobre o meglio, scusatemi, che c'è stato a partire da novembre, poi dicembre, che ha visto Bitcoin e tutte le criptovalute in maniera così, eh, vedete questa, questa curva, eccola qui, vedete questa parabola e, mh, pericolosissima, perché come vi ho fatto vedere anche su iOS quando c'è un pump così grande necessariamente ci deve essere un dump altrettanto, eh, grande quante volte vi ho detto in questi momenti, attenzione ragazzi, non è sana questa salita non comprate in questo periodo perché è facile che ci sarà una correzione qui, grandissimo entusiasmo da parte dei, dei media, da parte degli investitori grandi e piccoli e, però, ragazzi, non è, non è stata sana questa salita ha rovinato il mercato nel 2018 stiamo pagando questa salita qui, in questa maniera così pompata, così forte l'ha rovinato in che senso? ve lo spiego subito, l'ha rovinato in due, in due modi un modo è quello, una modalità è perché adesso i grandi investitori quelli che vogliono mettere, vogliono rimettere soldi non le grandi balene, ma i grandi investitori, quelli che magari hanno 5, 10, 15, 20 milioni, 50 milioni di dollari da mettere sopra a questo mercato e magari hanno ancora posizioni aperte perché magari sono anche loro entrati, potrebbero essere entrati qua, potrebbero essere entrati qua e quindi adesso sono a break even, o forse sono ancora un po' in guadagno stanno aspettando, stanno aspettando che il mercato riprenda perché non vogliono rischiare troppo i piccoli investitori, quelli che magari sono rimasti scottati da questa salita qui perché sono entrati qui e hanno chiuso magari in perdita sono spaventati, hanno paura di rientrare perché magari hanno già perso magari non rientreranno mai più magari invece ci sono quelli che vogliono rientrare ma vogliono aspettare segnali positivi, segnali positivi che non ci sono ecco perché c'è indecisione, c'è indecisione a metter a metter soldi sul mercato perché quello che stiamo vedendo ragazzi dopo questa, quella grande discesa è questo, vedete che il mercato qui sceso, poi risalito poi risceso, ha toccato quello che possiamo dire è una cosa c'è una struttura di prezzo importante che va tra i 6500 dollari e qua i 6000 dollari e magari lo sapete che faccio me la segno con un bel rettangolo questo lo possiamo dire abbiamo visto che il prezzo negli ultimi due mesi, da febbraio da questo grande dip che c'è stato ha tenuto questa struttura di prezzo che va tra i 6500 e i 6000 dollari vedete che due volte il prezzo ha provato a violarla ma per due volte ci ha rimbalzato quindi una cosa che possiamo dire con certezza è che c'è una struttura di prezzo importante si dice struttura maggiore e questo è un supporto maggiore in questo range il che vuol dire ragazzi che non è che necessariamente bitcoin non può romperla ma se dovesse romperla allora, perché quando il prezzo rompe una struttura importante allora vuol dire che può veramente ancora scendere può scendere dove? l'ho segnata qui la struttura più in basso può scendere tra i 3500 e i 3000 dollari ok? quindi veramente ha spazi per la discesa perché è lì che c'è la prossima struttura di prezzo capite che cosa intendo quando dico indecisione qui vedete che il prezzo aveva rimbalzato ha usato come supporto proprio questo range di cui vi parlavo è salito qui intorno ai 9007 poi ha compresso vedete ha fatto una compressione qui ha rotto con questa candela qui ha rotto sembrava potesse salire qui ho fatto, mi ricordo, un video di analisi tecniche e vi ho detto ragazzi c'è la soglia psicologica a 10.000 dollari bisogna vedere se bitcoin sarà in grado di superarla non è stata in grado di superarla e che cosa è successo? boom, è sceso è risalito un pochino è sceso e adesso dove si è appoggiato? vedete questa linea verde tratteggiata si è appoggiato di nuovo qua su questo supporto eccolo qua e adesso purtroppo c'è poco da dire se non stare a guardare che cosa ha intenzione di fare il mercato perché ragazzi guardate vi faccio notare una cosa vi metto la media 200 periodi questa è la media 200 periodi vedete che come praticamente il prezzo l'ha usata come resistenza per due volte per tre volte qui come resistenza il prezzo è arrivato perché quando il prezzo supera va al di sopra della media 200 periodi diciamo che quello è un segnale un segnale ragazzi non è la conferma o la certezza un segnale che il prezzo possa ricominciare un trend rialzista però è stato respinto tre volte una, due, tre ed è sceso boom qui è sceso di meno qui è sceso in maniera importante e si è andata a ripoggiare su questo supporto e adesso qui dobbiamo vedere che cosa farà questo supporto sarà un supporto dove il prezzo di nuovo tornerà verso i 9000 dollari perché non ci dimentichiamo vedete questo rettangolo qui verso i 9000 dollari c'è un'altra struttura c'è un altro supporto oppure riuscirà oppure semplicemente tornerà sulla media 200 periodi prima di magari ancora dover riscendere viceversa riuscirà a rompere e salire è inutile ragazzi che alcuni commenti mi dicono sì vabbè Marco ma tu fai analisi sulla price action ma alla fine non dici quello che può fare il prezzo ragazzi la palla di vetro non ce l'ha nessuno non c'è nessun analista che può dire guardando il prezzo cosa farà con certezza dopo il prezzo l'analista il trader di analisi tecnica quello che fa è capisce cosa sta succedendo dal punto di vista della price action e individua i possibili scenari ma li individua tutti quello lo scenario rialzista lo scenario ribassista e lo scenario diciamo di compressione di lateralizzazione del prezzo capisce dove sono i livelli che cosa potrebbe fare il prezzo ma in questo mercato in questo momento sulle criptovalute su bitcoin nessuno ragazzi vi dico nessuno vi può dire che cosa potrebbe succedere lo sapete chi ve lo potrebbe dire le grandi balene le whales allora se avete uno di quegli amici lì e ragazzi non intendo dire investitori da 10 milioni investi 10 milioni di euro investitori da 20 milioni di euro perché non bastano quelli quelli quello che servono adesso sono le grandi balene sono gente che mette dentro al mercato 100 milioni un miliardo sono quegli investitori che possono far riprendere il mercato solo loro se infatti guardiamo anche i volumi mettiamo qui sotto i volumi li vedete i volumi comunque stanno dentro la media sì ogni tanto escono fuori dalla media tra l'altro ragazzi escono fuori dalla media il più delle volte accompagnati da candele rosse questo è stato l'unico caso in cui vedete qua questa grossa barra verde conferma di questa candela verde che c'è stata e questo è stato un grande segnale per dire no teniamo come supporto questo livello il mercato ha detto sotto a questo livello di prezzo stiamo intorno ai 6500 dollari no bitcoin non ce lo facciamo andare boom e l'hanno rispinto verso l'alto altrimenti i volumi accompagnano più le candele rosse fuori dalla media che le candele verdi qui servono davvero davvero grandi investitori che in questo momento stanno speculando c'è poco da dire e da fare stanno semplicemente speculando si stanno divertendo perché? perché fanno il veramente il loro comodo vedete qui l'hanno fatto sfiorare 10.000 poi l'hanno fatto scendere risalire un pochino boom crollare risalire un pochino e poi di nuovo boom crollare guardate qui che bella qui c'è un bellissimo A, B, C, D e ancora A, B no scusate A, B, C e D doppio e adesso il prezzo che cosa sta facendo? sta ritracciando sperando che questo supporto tenga sperando lo spero io perché mi piacerebbe vedere bitcoin finalmente riprendersi ma per vederlo riprendersi vi dico qual è la soglia a cui io punto ve l'ho detto più volte nell'analisi tecnica che ho fatto in passato la prima soglia importante è questa i 10.000 ok i 10.000 dollari in questo caso bitcoin se riuscisse a superarla riuscirebbe anche a rompere la media 200 periodi ma poi si troverebbe quest'altra qua questa ragazzi è un'altra struttura molto molto importante i 12.000 dollari perché qua vedete quante volte il prezzo una due tre volte qui è rotto ma poi è rientrato quattro volte l'ha usata come resistenza sono sicuro che molti investitori diciamo medi medi e forse anche i più piccolini stanno aspettando il prezzo qui sopra per fare che cosa? magari per chiudere le posizioni alcuni di loro per quanto mi riguarda il raggiungimento di questa struttura sarà un traguardo importante e sarà molto curioso di vedere che cosa farà il prezzo il prezzo potrebbe far questo vi dico immaginate che questa è la media 200 periodi che sale il prezzo magari potrebbe fare così potrebbe romperla arrivare qua quindi arrivare su questa struttura sentire un po' di resistenza tornare indietro sulla media 200 periodi rimbalzarci e boom salire e vi dico questo è quello che Marco Casario vorrebbe vedere però è anche come dovrebbe comportarsi il mercato affinché ci sia una salita sana lo sapete qual è una cosa che non mi piacerebbe vedere anche se il prezzo andasse verso l'alto ve lo dico subito ve la disegno fatemi tornare ecco zoomare un pochino quello che non vorrei vedere è questo che il prezzo adesso qui rimbalza boom anzi no facciamola così disegniamola così comincio a fare così quindi sale in maniera vertiginosa questo non lo vorrei vedere perché di nuovo si ricreano i presupposti si ricreeranno i presupposti di questa salita parabolica qua questa qua che necessariamente è grande speculazione e necessariamente dovrà essere seguita da un ribasso fisiologico di nuovo oggi guardate questo questo momento qui da metà anno ad oggi oggi stiamo pagando il conto di questo e lo stiamo pagando in due modi con questa lateralizzazione grande speculazione e col fatto che gli investitori che potrebbero far riprendere il mercato stanno guardando stanno guardando non stanno entrando e i piccoli noi piccoli non possiamo far niente gli holder possono solo come fanno sempre purtroppo per definizione pregare e fare holding possono far solo quello gli holder chi sta facendo trading di breve termine e vi dico io da febbraio marzo 2018 ho iniziato a farlo quindi ho iniziato con un portafoglio di periodo più breve non voglio dire che faccio day trading perché il day trading secondo me è impossibile farlo sul mercato delle cripto ed essere consistente e vincente nel medio e lungo termine ma faccio day trading proprio perché il mercato si sta muovendo in maniera strutturata sta sentendo strutture di prezzo e ve lo posso far vedere anche qua eth usd ve lo faccio vedere su ethereum vedete anche ethereum si muove ritraccia sente le strutture vedete queste linee che ho disegnato sono strutture le sente adesso ha sentito questa come resistenza e sta sentendo questa come supporto e guardate come sta il prezzo sulla fatemi zoomare che ve lo faccio vedere meglio sta sulla media a 200 periodi guardate vedete come ci rimbalza come supporto e in questi frangenti chi sa far trading e chi ha le conoscenze per far trading soprattutto sulla price action riesce comunque a portarsi a casa un po' di profitti piccoli però sommandoli alla fine danno un risultato interessante gli holder possono solo stare a guardare e aspettare che la situazione si sblocchi che rientrino i grandi investitori ragazzi fatemi sapere come la pensate voi se siete d'accordo o non siete d'accordo se non siete d'accordo vi chiedo solo una cosa fateci capire a tutta la community perché non siete d'accordo e qual è la vostra visione perché guardando il grafico guardando la price action è piuttosto semplice dire che cosa sta succedendo e purtroppo sta succedendo questo tutto questo che sta succedendo sta succedendo in un momento in cui soprattutto qua in questo periodo qui stringiamo la finestra temporale stanno uscendo notizie positive di fondamentale di aspetto fondamentale dobbiamo aspettare però che i grandi le grandi balene entrino che loro vogliano interrompere questo momento di lateralizzazione che potrebbe durare ragazzi anche per tutto il 2018 potrebbe durare per tutto il 2018 mia opinione personale probabilmente si romperà prima del 2018 perché di solito tendenzialmente l'estate è un momento morto e ci stiamo entrando nell'estate e ci sarà poi invece la parte ottobre novembre dicembre che di solito è la parte un po' più frizzante dell'anno almeno questo per quanto riguarda i mercati azionari classici però anche le criptovalute ce lo hanno fatto vedere anche se hanno poco storico quindi potrebbe tra ottobre novembre dicembre darci un po' di impulsi però il 2018 è un anno come vedete ve l'avevo detto che sarebbe stato quante volte ve l'ho detto fine anno 2017 il 2018 sarà completamente diverso c'è la SEC che si dovrà forse pronunciare la SEC e la CFTC per le regolamentazioni americane quella è un'altra cosa che le grandi balene stanno guardando stanno aspettando loro magari già ce l'hanno la risposta della SEC stanno solo aspettando che la rendano pubblico non sappiamo i giochi i grandi giochi di potere che fanno più in alto di noi che non sono alla nostra portata e che noi non sapremo mai non sappiamo che cosa ecco perché è impossibile oggi dire che cosa succederà al mercato perché tanto i giochi li stanno facendo loro purtroppo purtroppo sì purtroppo e noi possiamo stare a guardare e lo faremo lo facciamo giorno dopo giorno insieme su questo canale ragazzi di nuovo fatemi sapere che cosa ne pensate grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti ciao